Un fenomeno oggigiorno estremamente diffuso è la ludopatia minorile, per contrastare la quale prosegue costante l'impegno sul territorio dei finanzieri del Comando Provinciale di Salerno che focalizzano l'attenzione in particolar modo sui numerosi centri scommesse. I militari della compagnia di Scafati hanno sanzionato infatti altri due gestori di punti scommesse, uno a Castel San Giorgio dove un sedicenne è stato beccato nell'atto di ritirare la giocata, l'altro a Nocere Inferiore dove un quindicenne, consultando i palinzesti, si accingeva a piazzare la scommessa. I titolari dei centri sono stati sanzionati in quanto la legge è particolarmente severa in quest'ambito ed infatti vieta assolutamente ai minori che sono una fascia facilmente aggredibile dal fenomeno della ludopatia di accedere nei centri scommesse. In tutte le sale preposte al gioco è obbligatorio infatti esporre nei punti d'ingresso del locale un cartello ben in vista che informi del divieto di accesso per i minorenni. Nei casi di incertezza, per quanto concerne l'età, la legge prevede anche la possibilità di richiedere l'esibizione di un documento di identità.